Siamo schiavi dell'arri, non mi servono i programmi se il consenso c'è l'arri Ciao Guglielmo, accolgo, prego, accolgo, grazie Ti chiamo Guglielmo Willi, come vuoi tu, come vuoi tu Allora, qui abbiamo un torinese, il direttore del giornale di Torino, un altro torinese Una signora che è appena stata a Torino Io sono appena stata, vengo da Torino Quindi siamo un angolo a tutto Allora, senti, ti abbiamo dato la parola offese Willi, perché? Perché, ti ispiriamo a un affatto di questa settimana Il, chiamiamolo così, il responsabile della campagna vaccinale della Lombardia Che è Guido Vertolaso, durante un'intervista a SkyTG24 Di fronte a una domanda del tutto legittima della collega Tonia Cartolano Che gli chiedeva se veramente a fine marzo i fragili sarebbero stati finalmente vaccinati in Lombardia Lui ha preso, se ne è andato, tra l'altro con quel linguaggio moderno che consiste Nel dire cose belle con tono arrabbiato Come fa Stavini quando fa bacioni Lui ha detto, buon lavoro Ma era chiaro che stava dicendo in realtà ma va Vai a quel paese Esatto, e se ne è andato Ora, la mia domanda è, perché nessuno accetta più il contraddittore? Abbiamo tutti la pelle sottile, non lo so? Ma, un po' perché prendiamo tutto troppo sul personale Ci sentiamo protagonisti sempre Ne parlavate prima della libertà individuale Che ha superato qualsiasi altra forma di libertà Quella collettiva in particolare Quindi ci sentiamo tutti troppo protagonisti E confondiamo molto spesso le provocazioni con le offese Insomma, la viviamo un po' troppo sul personale Perché a forza di stare dentro il nostro mondo nel telefono Che è fatto su misura Leggiamo quello che vogliamo noi Ci confrontiamo solo con chi ci dà ragione, eccetera Siamo convinti di essere al centro anche del mondo che sta fuori dal telefono E quella roba lì ci fa perdere un attimo il punto di vista corretto A me è quello che colpisce Che ormai sembra che soltanto quelli della tua categoria possono parlare di te Cioè, se sei un cantante puoi parlare di cantanti Se sei un giornalista puoi parlare di giornalisti Cioè, nessuno può parlare di qualcun altro Se no, immediatamente l'altra categoria si schiera Dicendo, ci avete offeso Beh, perché ormai siamo tutti delle tifoserie in realtà Non si parla più di categorie Facciamo parte proprio di tifoserie opposte E in realtà questo ci porta a non accettare mai Che se il nostro avversario dice una cosa Non dico intelligente ma quantomeno plausibile Comunque non gli daremo la ragione a prescindere Perché noi all'avversario non dobbiamo mai dare ragione Questo è un discorso che secondo me finché è allo stadio può avere senso E lo sappiamo bene Però fuori dallo stadio Ma ditelo, ditelo No, sì, noi siamo appartenendo alla stessa religione Allora li siamo umanamente vicini Ma non parliamo di calcio Noi non volevamo farlo perché non è Piccola parentesi Ecco, che cosa qui Quindi il calcio però mi viene facile farti una domanda Che cosa potrei dire io per offendermi? Ecco, infatti lì volevo arrivare L'unica cosa che puoi dirmi per offendermi è capovolgere il mio tifo calcistico Dirti che sei uno juventino Esatto Se dicessi così Se dicessi quello Sì, per tutto il resto sono pronto Puoi immaginare l'ultimo che però Sono io per cui il problema è risolto Senti, la tua canzone di Sanremo Mai dire mai La locura che noi amiamo molto E che in questo programma è stata raccontata meravigliosamente da Roberto Vecchioni Come un testo profondo, potente e bello da ballare Ma anche da pensare Ecco, hai attaccato un sacco di gente In realtà però le uniche che si sono arrabbiate sono state le femministe Per quel verso Alcune, non tutte Per quel verso in cui dicevi di non vedere il nesso fra tuercare Che lo dico perché non sa Dimenare i fianchi Possiamo dire no dimenare i fianchi E la lotta contro il patriarcato Ecco, ci spieghi bene In realtà io l'avevo contestualizzato all'interno di Sanremo proprio Perché c'era un riferimento al Sanremo scorso E al twerk di una persona come Letra Lamborghini Che venne preso come simbolo di emancipazione femminile Quando in realtà era un gesto di spettacolo E non c'entrava nulla con il discorso di emancipazione Ma quello che mi dispiaceva è che appunto Io ho cercato di provocare un sacco di categorie diverse E le uniche che invece ce la sono presa molto a cuore La questione erano appunto le femministe Mentre tutte le altre categorie che io speravo si arrabbiassero Posso dire che sono proprio fregate Stanno presa a ridere, anzi a farmi complimenti Questo mi ha un po' offerto Quindi le femministe sono più avanti Perché almeno partecipano Gli altri sono andormiti Forse sono più passionari Eh beh c'è, sicuramente Però ecco, io volevo dirvi una cosa Coinvolgo anche te Massimo Voglio sentire anche te Willy Cioè, noi facciamo ormai fatica Io spesso, io stesso mi accorgo Di in certi momenti di autocensorarmi Vi faccio un esempio Ancora oggi molti lettori mi hanno scritto Perché non racconti in tv La storia del caro armato friulano Che è una settimana che non si parla l'altro Ma abbiamo tutti paura a raccontare Cosa è successo? Un caro armato in un'esercitazione Si sbaglia Spara il povero soldato E distrugge un pollaio Una notizia che fa ridere Le state riprese in tutti i giornali del mondo Ma nessuno l'ha veramente commentata Perché? Perché se la commenti hai paura Che si offendano i patrioti Che dicono Stai prendendo in giro l'esercito Le galline Ma gli animalisti Dicono, ah certo Perché se era una strage di galline Allora ti fa ridere Perché venire alle galline Cioè, ora Il risultato Non si può parlare più di niente Ci ho voluto scherzare Cioè, fare una battuta su un tema come questo Appunto potresti trattare gli animalisti Che in qualche modo Non si ride della morte di Quindi c'è la Non si può più dire nulla Tu tra l'altro Nella canzone Tu cominci con la citazione Della bellissima serie televisiva Che tutti conosciamo Boris Questa è l'Italia del futuro Un paese di musichette Mentre fuori c'è la morte Ecco, però È molto bello dirlo Poi però spiegalo Cioè, hai veramente questa visione del futuro Ma in realtà Credo che fosse attuale Nel momento in cui Mi trovavo a Sanremo Che per una settimana Avrebbe raccontato all'Italia Un sacco di musichette diverse Mentre fuori il paese Affrontava un problema Che ormai abbiamo Insomma abbiamo imparato a conoscere Da più di un anno Quindi Mi sembrava assurdo Il meccanismo Per il quale Si doveva lasciare completamente fuori Dall'Ariston Tutto ciò che in effetti Accade nella vita di tutti noi Quindi Mi dispiaceva Non ricordare a tutti Che comunque viviamo Un momento di questo genere Poi si può anche ridere Si può scherzare Perché questo è importante Si può ridere di tutto Non si può ridere per tutto Che sono due concetti molto diversi Però non possiamo dimenticarci Che la realtà esiste E quindi lasciarla del tutto fuori Mi sembrava più ingiusto Nei confronti di chi Ha dovuto subire Questo periodo Più di altri Giusto Lui è l'ospite ideale Senti come parla veloce Sarai contentissimo Eccezionale Dice un sacco di cose Tutte condivisibili Adesso No no è vero Hai perfettamente ragione Era diventata una bolla Anche Sanremo A un certo punto Invece per fortuna Grazie a Willy Ha bucato la bolla Ha bucato Poi sono in sorte Solo le femministe Però va bene Lo stesso insomma Le femministe Parlano e dicono la loro E io le difendo Sempre Anche io Sempre Sempre Ho chiesto un confronto Che sto avendo Ripetutamente Quindi comunque La mia era giustamente Era una domanda E ci stiamo confrontando Sulle possibili risposte Quindi mi dispiaceva Che però L'avessero fraintesa Come un attacco Che non voleva essere Era una provocazione Era evidente Adesso l'hai detto Così ufficialmente Che lo sapranno E' perdonato Foto Face fatta Veronica Foto dal settore